Ok, così. 5, 6, una piovra, 7, facciamo tutte le mani, 8, ancora 1, raddrizzo i fianchi, 2, raddrizzo le spalle, 3, 4, 5, 6, 7, piego la gamba, vicino il tallone alla spalla, piede in flex, la gamba davanti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, gli ultimi 1, posizione, 2, 3, scendo col bacino, 4, 5, 6, 7, e scendo piano.